...di protezione civile impegnate in caso di incendio o di allagamento, l'obiettivo è quello di essere d'aiuto in maniera più rapida. È stata presentata ieri pomeriggio presso la città dei mestieri a Ostia la nuova legge sulla protezione civile. Ad organizzare l'evento a cui hanno partecipato anche le associazioni di volontariato del territorio sono stati Massimiliano Valeriani, vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio e primo firmatario della legge, l'assessore all'ambiente del decimo municipio Marco Belmonte e il capogruppo municipale del Partito Democratico Giuseppe Sesa. L'appuntamento ha permesso di approfondire tematiche importanti per la protezione civile e per il suo nuovo regolamento come ad esempio la formazione dei volontari. Gli amministratori del decimo municipio hanno chiesto ufficialmente la possibilità di istituire un coordinamento locale delle associazioni. Abbiamo deciso, affermano Sese e Belmonte, di presentarla sul nostro territorio per avere uno strumento efficace per poter disciplinare e organizzare una struttura importante come quella della protezione civile fondamentale nei momenti di crisi come i recenti allagamenti e pianificare gli interventi ma soprattutto per creare le condizioni per costituire un coordinamento territoriale di protezione civile.